Non sono in pericolo di vita ed è l'unica notizia positiva. Tre dei cinque militari italiani rimasti feriti nell'attentato esplosivo in Iraq a sud-est di Kirkuk, nella zona contesa da iracheni e kurdi, sono in gravi condizioni. Uno ha subito un'amputazione ad una gamba, un altro ha il piede compromesso, il terzo ha riportato lesioni interne. Rientravano da una sessione di supporto e addestramento alle forze locali impegnate nella lotta contro l'ISIS. Il convoglio della Task Force 44 è saltato su uno IED, un ordigno rudimentale, deflagrato al passaggio dei mezzi del team misto di forze speciali italiane. L'esplosione ha investito due militari del nono reggimento d'assalto paracadutisti Col Moschin dell'esercito e tre del gruppo operativo incursioni della marina militare. I feriti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale americano di Baghdad, dove sono attualmente ricoverati. La procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per attentato con finalità di terrorismo e lesioni gravissime, l'ipotesi che la paternità dell'atto terroristico sia riconducibile all'ISIS e al vaglio degli inquirenti. I militari feriti fanno parte della missione prima partica, avviata nell'ottobre del 2014, con l'allestimento in teatro di operazioni di un dispositivo logistico-amministrativo comprendente circa 250 militari. Si moltiplicano ora le reazioni all'attentato, anche alla luce dell'imminente ricorrenza della strage di Nasseria di 16 anni fa. Dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, dolore e apprensione per l'accaduto e un pensiero di vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. Dal sindacato dei militari, la richiesta del ritiro delle forze italiane da quella che viene definita una missione inutile.